Benvenuti ad un nuovo appuntamento con lo speciale Tullo Pezzo Motori. Anche oggi qui dalla concessionaria Tullo Pezzo vi presenteremo tre auto d'occasione, un usato d'eccellenza BMW. Da oltre 50 anni la concessionaria Tullo Pezzo è il venditore ufficiale del marchio BMW. Garanzia e qualità tedesca. Donatella, qual è la prima proposta di oggi? Questa è una 218 Active Tourer, una nostra vettura aziendale del novembre 2015 con solo 9.000 km. Ha un prezzo di listino di 41.400 euro, la proponiamo col 30% di sconto a 29.000 euro. Davvero un'occasione fantastica, solo 9.000 km. Andiamo a vedere gli interni? Sì, la vettura è dotata di cambio automatico, ha il volante sportivo multifunzione, i cerchio in lega e i farei B-LED. Con quante rate può essere nostra quest'auto? Con 48 rate senza anticipo da 570 euro al mese. Gli altri accessori che troviamo all'interno? Beh, il navigatore, il cruise control, il clima automatico. Continuiamo a conoscere la proposta della concessionaria Tullo Pezzo. Questa è una 318 Touring del giugno del 2011 con solo 90.000 km. La proponiamo a un prezzo di 15.900 euro. È dotata di cambio automatico, volante sportivo multifunzione, ha un cerchio in lega da 17 ed è tutta tagliandata BMW. Quante rate? 35 rate da 380 euro al mese. Siamo pronti a conoscere la prossima proposta della concessionaria Tullo Pezzo. Questa è una BMW X3 del dicembre 2011, una versione futura, unico proprietario, tutti i tagliandi ufficiali, la vettura al cambio automatico, il faro all'oxeno, i cerchi in lega, il navigatore. Un'auto perfetta per le famiglie. A quanto la proponete? A 23.900 euro. La concessionaria Tullo Pezzo ritira auto d'occasione quotidianamente, quindi l'offerta è sempre aggiornata per soddisfare tutte le esigenze dei clienti. Per maggiori informazioni visitate il sito www.tullopezzo.it